ciao ragazzi questo come avevate visto era grigio io gli ho dato un colpettino di vernice intanto per non lasciarlo grigio non è verniciato perfettamente perché l'ho fatta a bomboletta non con la pistola io gli da anche una verniciatina alla marmitta un po di trasparente sul codino ora vedete questi qui perché le viti che raggano il codino dietro sono rotte quindi glielo rincollate con la resina ora si aspetta 10 minuti e asciuga e poi a posto e questo è tutto finito chi c'ha un parafango davanti me lo dice perché mi interessa che però lei c'ha furia ancora non l'ho voluto non vuole aspettare quindi glielo rendo così comunque ammettilo sono quattro viti è facile facile ciao